Io sono il primo della famiglia ad aver finito la scuola. Da grande sarò un dottore e tutto questo grazie a Nubai. A Capoverde l'abbandono scolastico è molto alto a causa del costo elevato dell'istruzione. Nubai è un'associazione no profit che si occupa principalmente di borse di studio. Lavoriamo insieme ai servizi sociali capoverdiani per aiutare i bambini delle famiglie più povere. Noi giovani siamo il futuro di Capoverde. Aiutateci a farci diventare delle grandi persone.